Ok ragazzi, allora sono arrivato da poche ore a Chiang Mai, Chiang Mai si trova in Thailandia, al nord della Thailandia e devo dire che la sera è un posto tranquillissimo, abituato al Vietnam che è il delirio più totale, veramente qua c'è una pace incredibile, infatti sono andando in giro a piedi, tranquillo, vediamo un po' com'è Chiang Mai, quindi niente ragazzi adesso fado a farmi un giro al Night Bazaar e poi ci vediamo domani. Allora ragazzi, in Thailandia finalmente un pad thai e mango sticky rice, assaggiamolo. Buono, 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 e adesso assaggiamo il mango sticky rice che altro non è che che il mango con riso glutinoso, tipo un dolce, vediamo con la porchetta. Molto buono il mango, che è buonissimo, c'è questo riso croccante sopra. Ed eccoci con un nuovo video dal sud-est asiatico, trovandomi già in Vietnam, ovvero dietro l'angolo, non potevo non visitare il paese che più ho sognato di visitare, la Thailandia. Il mio viaggio parte da nord, da Chiang Mai. La prima sera visito un po' la città, mangio ed assisto ad un incontro di Muay Thai, lo sport nazionale. Sono su un mezzo che non mi ricordo come si chiama, è una specie di Apecarra, e sto andando a Doisupet, che è un tempio a 40 minuti dal 110 Mai. E questo è il mio taxi per arrivare a Doisupet, taxi tra virgolette chiaramente. Ok ragazzi, mi hanno appena mollato giù a Doisupet, sono stanchissimo oggi, devo dormire un po'. Quindi vediamo se stasera non riesco a fare troppo tardi, forse è meglio. E andiamo con altri gradini. Eh, sono un botto. Va bene. Va bene. Si fanno. Scaliamo sto drago. Doisupet è il tempio più importante di Chiang Mai. Si trova a 40 minuti dalla città e si trova su una montagna a mille metri di altezza. Ci siamo. Ci si arriva attraversando 309 scalini con i naga sulle balaustre, ovvero i serpenti sacri. La cedi principale, ovvero questa specie di piramide, è ricoperta in foglie d'oro. Ci si gira attorno tre volte recitando una preghiera per ottenere la benedizione del Buddha. Alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo delle passarelle difficilissime da passare. Vediamo se mi regge. Sì, che mi regge. Lì abbiamo l'elefante. Il mio passista non era mai venuto in questo posto. Mi faccio mi aspetto in macchina e ti pago anche il ritorno per tornare in ostello. Mi fa va bene, va bene. E poi è sceso giù a farmi le foto e sta facendo mille foto anche due le cose in giro. Mi sa che non aveva mai visto il posto e si è preso bene. What a beautiful place. Ragazzi ma quanto non è bello sto lago. Non è bagnabile. Diventa subito profondissimo ma secondo me probabilmente non è l'unico problema. Ma quanto è bello. Poi queste capannine sul lago. La gente viene qua a rilassarsi. Figo, figo, figo. Buongiorno ragazzi. Parlo a bassa voce perché sono in un tempio e non voglio urlare. Anche perché ci sono i monaci che svolgono la loro vita quotidiana. Oggi sono ancora a Chiang Mai. Stasera ho il night train per andare a Bangkok. Treno notturno. E sono nel primo tempio. Wat san fang. Purtroppo la parte dietro del tempio è in ricostruzione. Però è molto carino. Allora ragazzi. Poi non so perché del paperino ma mi piace. Comunque questo tempio è bellissimo. Vabbè ragazzi. Il paperino che mangia nudos è fantastico. Wow. Grazie a tutti. 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 Come Roma è la città delle chiese, Chiang Mai è la città dei templi e ce ne sono veramente un'infinità. Io ne ho segnati quei 7-8 che volevo vedere e poi siamo finiti. Praticamente con ogni due metri che ogni due metri mi fermo a un tempio perché sono, diciamo, questo qua non l'avevo segnato, probabilmente non è niente di che. Quelli che voi vedere sono bellissimi, ma proprio bellissimi. È incredibile questo posto. Sicuramente merita la città di questo posto. ma nel 1545 la cima crollò a seguito di un terremoto e non fu più ricostruita. Qui fino al 1545 era conservato il Buddha di Smeraldo, ora nel palazzo imperiale a Bangkok. Ganesh con il tifolismo. E per finire imperdibile il Tempio d'Argento, fatto ricoprire d'argento dagli abitanti del quartiere che per l'appunto è il quartiere degli argentieri. Questo posto è molto carino e ti fa pagare 50 baht. Che qui valgono più o meno 1,50 euro. Però essendo piccolino, per giustificare il fatto che ti fa pagare 1,50 euro, ti danno un portachiavino molto carino e una bottiglia d'acqua. Quindi ottimo, fantastico. E niente, abbiamo finito di vedere i templi di Chiang Mai, non li ho visti tutti, ne avrò visti una quindicina, ma sono molti di più in città. Però ho visto quelli principali o altri che mi sono capitati lungo la strada. E nulla ragazzi, quindi vi saluto da Chiang Mai. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, mettetevi un piace. Ciao, 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 ciao.